La sensibilità che riguarda il contrasto alla violenza sulle donne in particolare, ma la violenza in generale è qualcosa che è nel DNA della comunità della nostra azienda. Non si può pensare di essere persone migliori se non si ha attenzione alla cura anche dell'altro. Il primo progetto in Italia che va a utilizzare strumenti scientifici come un questionario statisticamente validato per andare a indagare quelli che sono i pregiudizi covert in un ambiente di lavoro. Il tema è sul tavolo di Confindustria ormai da tempo. Siamo sempre attenti alla violenza di genere sotto tutti i punti di vista della disparità salariale, le molestie e tutti gli argomenti che possono essere inclusi in quello che è il macro argomento della violenza di genere. Un progetto di FLE che va oltre il welfare aziendale per il suo valore di esempio nei confronti di altri imprenditori, sia per la necessità che queste tematiche pervadano tutti i luoghi, le sedi nelle quali è possibile portare appunto gli strumenti di questa consapevolezza.